No! Mi son fatta autocolle! Qua... Cioè... Rega, mi son fatta autocolle! Mamma mia! Vai, vai, vai! Mamma mia, come se lo aveva! Ehi, ci sono anche io qui! Mi sentite? Come faccio? Mi sta scoppiando la viscica! No, deve fare un'altra partita. Arriviamo almeno a... 30.000, mi piace. Dai, sì, si può fare, rega. Si può fare, secondo me sì. Ah! PES 2016? Eh? Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video TORTURA! Sìììììì! Finalmente siamo tornati con un nuovo episodio e io... sono contento! Non è vero. Cioè, rega, devo giocare a quel... ... dai zitto fammi parlare mi sto in moto grazie dicevo in questa tortura mi cimenterò in un'esperienza del tutto nuova per quanto mi riguarda vi chiederete perché? oppure alcune persone avranno già capito beh perché io nella mia vita non ho mai e dico mai giocato a nessun tipo di videogioco non so un cazzo per questo la definisco una tortura perché non mi piace giocare ai videogiochi e ci dovrò giocare per 24 fottutissime ore silenzio sto parlando chiaramente come ogni tortura che si rispetti se perderò dovrò eseguire una penitenza all'inizio della prossima tortura ma chiaramente non lo farò ormai mi conoscete visto che io non sono per niente in grado di giocare soprattutto a PES io i giochi di capo già non sono mai stato capace a giocare a nessun tipo di videogioco figurati se è Pro Evolution Soccer Soccer dalla regia mi correggono dicono Soccer tra l'altro la persona che mi ha corretto in questo momento è la persona che mi aiuterà cioè ovvero mi spiegherà proprio nel dettaglio quali sono i tasti giusti io ovviamente capirò tutto tutto ogni cosa e farò 8000 gol non ci sarebbe nessuno no ma si fa troppo rite Totti che sta far selfie si è vero e tutte le ragazze che mi seguono mi odieranno alla follia infatti questo video secondo me non se lo cagherà nessuno ma sti cazzi vi chiedo di lasciare subito un like per sostenermi in questa esperienza che secondo me sarà critica ma critica critica te lo giuro mi do una scarpa in faccia se ve lo dotti che si fa il selfie eccolo ce l'ho fatto e la devo anche lanciare ah pure con cerchio fai il cross con la ho con la ho rossa vabbè con la ho rossa vabbè me la ricordo come ho rossa con la ho rossa crossi cioè quando tu attacchi crossi in mezzo no regaboni che vuol dire crossi crossare il passaggio alto ah passaggio alto me va bene passaggio alto triangolo passaggio filtrante cioè che passi ma questo è il simbolo dei doni della morte del riporter si proprio vabbè ok è il mantanto dell'invisibilità con l2 corri con l'analogico dici la direzione cioè tipo se vai a correre dritto vai a correre verso destra verso destra vado a destra giù ok ah tipo quello della macchina tipo una cosa del genere allora sono le 11 e 39 minuti la tortura terminerà domani alle 11 e 39 minuti che bisogna fare adesso bisogna scegliere la squadra yes partita partita veloce esibizione partita veloce dai ma scappatella così a vuoto partita veloce è online quindi è un po' bene esibizione oh io voglio la partita veloce però partita veloce giochi contro uno che ti spacca il culo online no io fa spaccare il culo esibizione giochi contro il computer fa esibizione si vabbè dai giusto perché sono un po' esibizionista dai una marocchina te prego che babbara oddio però sono scarse africa africa te prego voglio no no burkino a paso voglio burkino a paso ok contro una forte contro una italiana vai non italiana dai contro il miran contro il frosinone pallone che pallone cosa ha? uno da cazzo uno figo si guarda quello da football non ha significhi guarda non c'è sto l'ho visto l'ho visto c'era quello da football c'era quello da football ora la football è da barboli voglio quello da barboli c'era quello da football ecco questo è la football guarda questo sono emozionato madonna piove ciao gente ciao marco c'ho paura è il primo calcio c'ho paura ma che devo fare? x fatto e poi è iniziata è iniziata è iniziata a sinistra cazzo chi so io? a destra a destra come a destra? a destra a destra a destra vai c'ho 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 casetta che importi alla casetta c'ho 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 mamma mia regà so diventato un pro gamer qual è l'analogico? questo qua quello là tutto a sinistra questo esatto ok tutto a destra lo metti eh messo e poi spingi x x bam perchè così piano x x x x eccolo 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 oddio faccio il mio primo gole regà il primo gole della mia vita no che cazzo hai fatto? oh non lo so questi sono stronzi me ne vanno la palla no oddio oddio come l'ho trevata io l'ho trevata dal culo tra un po' è l'ora di pranzo oddio oddio e che fa? oddio gli stavano a segnare ma tanto traverso ora io vengo come fai a mangiare? mangio e gioco si certo c'ho fame oh e lanciola anthony non sei tu quello come non sono io? sei quello con la freccetta ah che cazzo ne so oddio no vabbè intanto io mangio la banana ah regà con una mano eh fai mano non fate scrivere in strani cazzo sono già tre ore che sono fissato su questa serie a giocare a sta roba ma che mano sto no 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 perchè sto mettendo sotto si a questo risultato non devi cliccare vabbè non mi piace oddio me sto piscià sotto oddio me sto piscià sotto oddio me sto piscià sotto posso andare in bagno no perchè già il sig dopo si è scoperto dalla PlayStation quindi non giochi più proviamo beh ma sta a far vedere ancora i rallenti si ma come fai a giocare in bagno? c'è arrivo c'è arrivo sei tu non c'è arrivo aaaaaaah aspetta e vedremo regà devo far vivì ma brà è l'unica chance non c'è altro modo Ok Alza su Alza tutta su Non far vedere Casomai tirati sui pantaloni Apposto E' da non inquadrare il mio piscio E' da Ho capito che devo fare, sto qua, fermo Basta rega, non ce lo faccio più Oddio, basta C'è rega per farvi capire Sono dei sei Hai sentito questo rumore? Sono dei sei Mi sono ripetendo il cazzo Voglio andare un po' su whatsapp Un po' su youtube Voglio fare qualcosa Voglio uscire Non voglio rimanere chiuso qua dentro Per tutto il tempo Ma è possibile una cosa del genere? No, sono No, rega per uscire Non posso Non posso Non voglio perdere Qual'era la mia porta? Me lo sono dimenticato Destro o sinistra? Ok, vai dietro, vai dietro, vai dietro Eccola Eccola Dietro Continua a passare Eccola Eccola Eccolo Mamma mia Vai 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 Mamma mia come se lo aveva Non ce la faccio più Non ce la faccio più Non ce la faccio più A giocare A sto giocato E' merda Cazzo A Cosa la fa Che la la fa dare le foglia Che si muore Cosa? Sono le nove Che poi tra l'altro In teoria A questo gioco E' bello giocarci in compagnia Cioè E' fatto per stare con gli amici Invece no Vai a casa di Marco Ti trovi un joystick Uno Uno Un joystick Manca di che faccio le partite Faccio delle sfide Magari Chi perde Fa una penitenza No Questo è un gioco Per passare una giornata insieme No Oh Che su Oh Ne rispetto Guarda la mano di quello Oh Ne rispetto No E' casa di altri Non è casa di uno Maricati Tieni Dai sto giocando Andiamo a svegliarlo Perché si è addormentato E ha perso la sfida Oh Coglione Sono le tre Ti sei addormentato Dai Oh raga No Mi ha fatto vedere i joystick Oh 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 No Dormi Dormi Ti preoccupo Ma che è sta roba Dai No Un fettore? Vuoi un fettore? Guarda Ho perso No no Sento Tranquillo 10 volte che giochi la stessa partita Ho capito ragazzi Vabbè Do fa l'altro? Do fa l'altro? Do Devi fa l'altro? Do fa l'altro? L'altro Ok ragazzi Ho capito Ho capito Do fa l'altro Ok ragazzi Questo video È giunto al termine E Purtroppo Ho perso Per cui All'inizio della prossima tortura Cercherò di fare una penitenza Come sempre Ma tanto alla fine Non la farò Voi ormai già lo sapete Per cui Mi raccomando Consigliatemi con un commentino qua sotto Altre Altre torture da fare Nei prossimi video E E la penitenza appunto da fare Nel video successivo Arriviamo almeno a 30.000 mi piace Dai sì Si può fare raga Si può fare Iscrivetevi al canale Vi lascio qua sotto in descrizione I link a tutti i miei social network Facebook Instagram Twitter Periscope E Reda che sta seduto per terra Ci vediamo al prossimo video Torsura Oh Stratzitta Buttata Siancio Siancio Tutti siancio 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 Siancio